Ci sono due cose che devo assolutissimamente dire sulla moca, ma l'acqua in caldaia va già messa calda o fredda? E perché alla fine di ogni moca, quando vado ad aprire la caldaia, trovo dell'acqua sporca all'interno? Questo è quello che cercheremo di capire in questo video. E adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine, acqua in caldaia, sicuramente sappiamo che va messa sotto la valvola di sicurezza proprio per evitare problematiche di calcare. Ma sono sicuro che almeno una volta un tuo amico o una tua amica ti ha detto no attenzione l'acqua in caldaia va sempre messa calda. Ma sarà vero? O è una grande cazzata? E nel caso, quando va messa acqua calda e quando va messa acqua fredda? Ora, innanzitutto dobbiamo dividerci in due categorie ben distinte. Cioè, chi compra caffè tostati chiari, magari miscele 100% arabiche o singole origini arabiche specialty. E chi compra caffè già macinato o comunque tostato scuro con miscele magari a mente della robusta. Eh sì, perché questo è un punto cruciale per questo video. Perché la tecnica dipende soprattutto dal tipo di tostatura che noi utilizziamo nella nostra mocha. Ma vediamo un attimo il ragionamento completo. Perché quello che sappiamo con certezza è che i caffè tostati chiari sono più duri, densi, resistenti e hanno maggiore materiale da poter estrarre. E al contrario ovviamente per quelli scuri sono più fragili e hanno meno materiale. Poi sappiamo anche con certezza che più la temperatura dell'acqua è alta, più veloce sarà l'estrazione di materiale dal chicco. Bene, capito questo concetto, adesso settiamo le basi perfette per un esperimento completo. Quello che faremo adesso sarà verificare se realmente la temperatura d'inizio dell'acqua è così influente a livello sensoriale quando noi facciamo una nostra mocha. E lo faremo sia per un caffè tostato chiaro, in questo caso una singola origine del Ruanda, sia per un comunissimo caffè da supermercato tostato scuro. Quindi terremo tutti i dati costanti, qualità dell'acqua, quantitativo dell'acqua, del caffè, stessa macinatura, insomma stesso tutto, ma cambieremo solo la temperatura d'inizio. E la faremo una a temperatura ambiente, quindi con acqua che parte da temperatura ambiente, un'altra invece con una temperatura dell'acqua di partenza a 70 gradi, e un'altra, l'ultima, con una temperatura dell'acqua a 100 gradi. E capiremo quale è la migliore combinazione e se realmente c'è una migliore combinazione. Ma adesso, mentre preparo tutte queste mocha e già so che mi scoppierà il cuore oggi per l'ennesima volta, lascio la parola al nostro amico detective che ci spiega qualcosa di veramente interessante da conoscere sul caffè e sulla mocha. Ma perché rimane sempre dell'acqua all'interno della caldaia anche alla fine dell'estrazione? Il motivo è legato a questo spazietto qui sotto. Quando noi inseriamo acqua all'interno della caldaia e iniziamo a riscaldare quest'acqua, il vapore che si genera, espandendosi, spingerà l'acqua a passare e risalire attraverso il filtro. Finché, però, il livello dell'acqua non si abbassa sotto il livello del filtro. A quel punto l'acqua non riuscirà più a risalire all'interno del filtro, ma ciò che risalirà il filtro sarà solo vapore non condensato e inizierà la famosissima fase vulcanica, quella fase che noi dobbiamo sempre evitare. Ma allora, perché quest'acqua è anche sporca, come se ci fosse del caffè all'interno? Il motivo è perché quella non è solo acqua, ma è legata anche a una parte di caffè. E sì, perché dobbiamo sapere che per ogni singolo grammo di caffè c'è un assorbimento di acqua di circa 2-3 grammi. E nel momento in cui noi finiamo la nostra estrazione, una parte di acqua rimane intrappolata all'interno del filtro insieme al caffè. Ma poi finisce l'espansione di vapore, finisce la risalita di acqua, finisce quella pressione che si genera all'interno della caldaia e quindi una parte di acqua scenderà giù di nuovo nella caldaia grazie alla forza di gravità. E quindi è normalissimo che ci sia un avanzo di acqua e quell'acqua sia anche un pochettino sporca. Ma adesso torniamo al video. E siamo giunti alla parte finale. Ma prima ragazzi, come sempre vi chiedo un like e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. È facile, basta cliccare sul tasto qui sotto ed è anche gratuito. Ve lo ricordo ragazzi, per noi questi sono gesti molto importanti per la salute del nostro canale. E inoltre rinnovo anche l'invito ad iscrivervi alla nostra chat Telegram. Trovate il link nelle descrizioni proprio qui sotto. Lì noi condividiamo un po' quelli che sono i retroscena e gli approfondimenti di ogni singolo video. E adesso passiamo alle conclusioni. Ragazzi che dire, è un risultato che per certi versi ha seguito una sua logica, per altri un po' meno. Prima di andare avanti però e di condividere tutto, mi raccomando ragazzi, se utilizzate l'acqua bollente, aiutatevi con un panno perché la caldaia diventa incandescente. Bene, detto questo passo subito al risultato con i tostati chiari. Il risultato migliore l'ho avuto con una temperatura di partenza a circa 100 gradi, che poi non erano 100 gradi all'interno della caldaietta perché c'è un assorbimento di calore da parte del materiale dell'alluminio che era già di partenza freddo. La tazza l'ho trovata molto più rotonda, aveva più caratteristiche del caffè specifico, era più floreale, note amare molto basse ma comunque di buona qualità, mentre per le altre due le ho trovate abbastanza simili l'una con l'altra. Una di queste, forse quella con la temperatura più fredda, aveva delle note un po' più marcate di amaro e di diciamo bruciato. Non so il perché, visto che tendenzialmente la temperatura che ho usato era anche più calda, quindi questo un po' mi sta ancora dando alla testa per alcuni versi. Per quanto riguarda la tostata scura, invece, ha confermato un ragionamento che avevo letto in un blog di un personaggio illustre nel mondo del caffè e soprattutto delle moche, che è il più grande collezionista di moche in Italia e forse nel mondo, si chiama Lucio del Piccolo. Nel suo blog aveva proprio descritto che con i tostati scuri i risultati migliori si avevano con l'acqua fredda. A livello di logica un pochettino ci sta e non ci sta, però il risultato ha confermato quello che lui ha detto, perché tendenzialmente utilizzando un'acqua fredda noi avremo una temperatura più bassa nella prima fase di estrazione, ma dovrebbe essere talmente tanto bassa che non arriva nemmeno ai minimi standard che normalmente si dice si utilizza per, che ne so, una fase di preinfusione che sarebbe intorno ai 90, 91 gradi, 88 gradi, insomma una temperatura più consona data dalla letteratura proprio del caffè. Quindi devo dire che questo risultato un po' mi ha sì confermato la sua regola, no non mi ha totalmente chiarito il perché. Ma lascio la parola a voi e ai vostri commenti, alle vostre domande, insomma ne avete mai provato, avevate mai sentito parlare di questa cosa, qual è la temperatura perfetta secondo la vostra ricetta? Scrivete tutto nei commenti qui sotto. Io al momento mi fermo qui, grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!